bravissimo bravo con calma con calma metti il piede sul cordino ok vabbè che tanto ok bravo stai sereno a livello di aspetto emozionale bravo prova a fargli la carezza proprio come se fosse la mano con la spazio ok io l'accorciare di più su quinsaglio ok questa fiducia va recuperata questo prendi pure come compitino a casa col vanghetto aiuta la piano piano attira a fare il tarturo bravo ok bravo si è stato bravissimo ottio bravo credo lasciato aaron lascia la cagnolina avvicinati aaron bravo 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 dai su direi ok ok